Dario Frascone Achi, a vent'anni lascio gli studi per lavorare nella fagnameria di famiglia. Sin da subito inizio a trovare interesse nella lavorazione del legno. Colgo un'ispirazione che fino a quel momento provavo solo nel disegno, nel realizzare vari arredamenti moderni e vintage, da cucce per cagnolini e gatti, e restyling di mobili antichi e creazioni di vari arredamenti con mio stile. Nel tempo inizio a riuscire ad esprimere le mie sensazioni con l'arte statta, realizzando quadri sul legno di recupero e da poco sto esplorando l'arte digitale. Questa mostra la dedico a mia nonna Giuliana, che mi ha sempre ispirato con la sua semplicità e il suo infinito amore. A 20 anni ho lasciato i miei studi per lavorare nella carpentry famiglia. Da inizio inizio ho iniziato a trovare interesse in lavorazione del legno. Ho preso l'ispirazione che fino al momento ho sentito solo in questo disegno, nella realizzazione di vari arredamenti moderni e vintage, con le arredamenti per i cani e i gatti, alla stilazione di arredamenti antichi e alla creazione di varie arredamenti con mio stile. Nel tempo inizio ho potuto esprimere le mie sensazioni con l'arte abstracta, con creare peinture su reclamato. Questa mostra è dedicata a mia nonna Giuliana, che mi ha sempre inspirato con la sua semplicità e la sua infinita amore. Grazie per la visione!